abbiamo vediamo vediamo ragazzi no no cambia cambiano solo lo stage scusate ragazzi ok 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 come dove sta? Umbire! torneo? sei in torneo? ma gioca, gioca contro chi hai vinto contro chi hai vinto contro chi hai vinto contro chi contro chi hai vinto si studiano nessuno dei due vuole colchire a fondo ok ragazzi scusatemi non c'ero il forgo sta portando avanti la partita vedo che detiene la lead oh la la focus at a livello 3 sbaglia non mettere l'ultra attenzione attenzione è lì chiudeva lì arrivava il limite fra chiudere vediamo cosa vuole fare vediamo vediamo sta cercando si 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 attenzione attenzione deve riuscire a mettere un pugno e lo tira giù è andata buona oh wiffa punisce bene bravissimo chiude la combo buona per fabiso scelta sbagliata buona per forgo lo tira giù wow wow era abbassato e non ha punito ottimo anti air lo tiene giù lo tiene giù lo tiene giù lo tiene non lo spinge all'angolo con l'ultra doveva spingerlo all'angolo con l'ultra vediamo se chiude non la mette mancava la testata poteva chiudere attenzione attenzione super fabiso non ha messo la mano anti air non lo lascia saltare non lo lascia saltare adesso deve stare attento attento a quell'ultra deve stare attento deve stare attento air to air anti air 1 a 0 per forgo bella giocata ragazzi siamo 1 a 0 cambia il personaggio vediamo chi usa se ritorna su barog sagat sagat attenzione akuma ma direi che è un 5 a 5 però il forgo conosce molto bene il match up per cui vediamo akuma con l'ultra 2 contro barog vediamo 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 come se la gioca dai akuma è sempre forte comunque però è un personaggio molto difficile da utilizzare sbagli una roba e ti ritrovi con metà vita e via di ultra no 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 non fa danno non fa danno no non fa danno il forgo se lo tiene buono continui trade che provano sempre a sfavore di akuma Akuma on colpo yamo una giù un colpo y Quma va giù vediamo aiaiaiaiai aiaiaiei 케 aiaiaiai a为 attenzion Brutto errore da parte di Super Fabry Zong che poteva fare meglio lingua situazione attenzione ci passa sotto bravissimo non chiudere a combo però per akuma è letale questa cosa neanche il forgo chiude a combo ottimo lo tira giù akuma cerca il run away ottimo counter it per akuma non portato non ha finito però poteva metterci una spazzata buona presa per akuma addosso niente giro di vortex è qui è quello porta a casa mi sa la porta a casa due azzaro per forgo e porta a casa il forgo